Che cosa accomuna un giornalista che sta svolgendo delle ricerche, a una studentessa che sta cercando di riprodurre dispense o libri, a una signora che sta cercando di recuperare le foto di famiglia. Tutte queste persone sono accomunate da questo oggetto. È il nuovo Brown Novoscan A4. È uno scanner portatile che pesa poco più di 300 grammi ed è in grado in pochissimi secondi di realizzare delle scansioni in formato A4 sia a colori che in bianco e nero. Nella confezione, come potete vedere alle mie spalle, c'è lo scanner vero e proprio, una scheda micro SD sul quale archiviare le scansioni e il cavo USB ad alta velocità per il trasferimento dei file al computer. Vediamo ora i vari comandi. Con questo tasto possiamo scegliere la risoluzione a bassa o alta risoluzione. Con quest'altro pulsante è possibile scegliere tra la scansione a colori e quella in bianco e nero. Sul lato opposto abbiamo il tasto di accensione e spegnimento. Bisogna tenerlo premuto per un paio di secondi. Qui abbiamo il display. Su questo display ci appaiono le informazioni delle impostazioni che abbiamo fatto. La risoluzione, lo stato della batteria, il numero delle scansioni che abbiamo fatto e se stiamo realizzando delle scansioni in bianco e nero o a colori. Questo è il selettore per impostare la data e l'ora. La presa USB per il trasferimento delle immagini a computer. Lo slot per la scheda micro SD e il pulsante per formattare. L'uso del Brown Novoscan A4 è semplicissimo. L'importante è appoggiare bene lo scanner sulla superficie da riprodurre, da questo lato. Dopodiché bisogna farlo scorrere molto lentamente lungo tutta l'immagine. In appena 13 secondi riusciamo a effettuare una scansione a colori in alta risoluzione a 600 dpi. Se facciamo scorrere lo scanner troppo velocemente, la luce ci avverte e diventa rossa. Possiamo usarlo per fare scansioni di una foto, di un documento, di un giornale, di una rivista. Ogni scansione viene salvata in formato JPEG sulla scheda micro SD. Possiamo scegliere due differenti risoluzioni, l'alta risoluzione da 600 dpi e la bassa risoluzione da 300 dpi. Per fare un esempio su una scheda micro SD da 1 GB è possibile salvare almeno fino a 220 immagini a colori in alta risoluzione e fino a 290 immagini in bassa risoluzione.